Il nome del talk l'avete visto, la prima domanda che è venuta a me quando lo facevo è perché lo sto facendo e il motivo era più o meno questo qua, questa è la media degli articoli che trovate su internet sul CSS fa schifo, c'è i problemi eccetera eccetera e quindi diciamo che mi ero un attimino stancato di questa situazione questa è la slide che trovate in ogni post e ogni talk di CSS che troverete in giro più o meno, chi non l'aveva mai vista? Ok, e mi sono detto vabbè basta, non è possibile, a me mi sentivo uno sfigato perché a me piaceva scrivere CSS e quindi ho detto facciamo qualcosa, ho detto bene facciamo di nuovo grande il CSS ho capito che non poteva essere un buon proclama perché c'è qualcuno che l'aveva presa meglio di me c'è anche questo grande detto del sensei che questo talk non parla di questo, non sarà un talk di dire no non è vero CSS è fighissimo siamo tutti bravi, noi che scriviamo CSS siamo dei fighi, è vero, verissimo però questo talk non parla di questo perché a riguardo ha fatto già un talk al CSS e dei trovati il video online sulle slide, quindi di cosa parliamo? più o meno del fatto che scrivere CSS può essere divertente, né più né meno, può sembrare strano al che quando ho presentato per la prima volta questo talk mi è stato detto ok perché hai scelto il titolo di un film di guerra e in realtà perché me l'ho sbagliato, io volevo, me l'ho confuso il titolo ho detto chi più di Adam Sandler può raffigurare l'anima diciamo goliardica del talk ma poi mi hanno detto no va che è un film diverso e quindi vabbè, ormai però avevano preso il talk, non potevano cambiarlo, avevano stampato tutto quanto e è rimasto così quindi iniziamo con questi dodici bellissimi trucchi questo qua è uno dei miei preferiti perché l'ho usato così tanto che alcuni miei colleghi ancora mi maledicono adesso ovvero il selettore check, quanti lo conoscono? tutti quanti questo è il trucco proprio per eccetera è quello che si dice sempre quando si dice che facciamo dei trucchi CSS in pratica anche chiamato checkbox hack permette di controllare in CSS se una checkbox è ceccata o meno un radio eccetera quindi questo tipo di HTML e se è ceccato l'ombra grazie al cielo un pochettino si vede non vedo il mio mouse però e questo è male se è ceccato è illuminata o meno proprio raga, è più facile di così le cose diventano più interessanti quando ci mettiamo in mezzo le label che permettono di controllarle ok abbiamo tutte le cose bellissime lo facciamo diventare interessante in un colpo ovvero grazie ai sublin combinators che è questo carattere CSS qua chi lo conosce? bravissimi, vi voglio benissimo perché se no non sapevo spiegarlo praticamente potete selezionare un elemento adiacente a una checkbox ceccata facendo cose di questo genere potete illuminare un oggetto che non ha nulla a che fare con la checkbox se non essergli adiacente nel DOM carino e voi dite, vabbè, bell'esempio nella vita vera cosa ci potete fare? la prima cosa che ci faccio fisso io perché le checkbox che ci sono online fanno tutte schifo e renderla un po' più carina qui c'è praticamente l'unica cosa a notare c'è un svg a un certo punto della nostra input cosa che possiamo fare è animare questa bellissima checkbox un po' più carina di una checkbox di quelle di sistema ma fin là praticamente potete gestire qualsiasi tipo di stato binario qualsiasi booleano della view può essere controllato da una checkbox indovinate perché? perché le hanno inventate apposta fantastico prima di React usavamo le checkbox quindi cose che potete fare ad esempio andare a controllare un menu e anche qua nulla di nuovo una non mi trovo più qualcuno vede il mio mouse sullo schermo? eccole, è arrivato una tab con dei radio non dovendo controllare assolutamente lo stato perché di radio attivo con lo stesso name ce ne può essere uno o c'è gente che ovviamente sull'internet l'internet è un posto bellissimo ci ha fatto veramente di tutto questo è fatto tutto solo con CSS e checkbox ok? bene riguardo l'accessibilità mi piace scherzare su tante cose tranne che su questo argomento diciamo che l'accessibilità è un po' problematica perché questo trucco qua sapevo che lo conoscevano tutti lo vedo molto utilizzato su internet quasi nessuno il motivo per cui al primo posto è che quasi nessuno si legge le regole dell'accessibilità di questo affare qua il toggle deve avere un attributo area expanded cosa controlla e deve avere anche un attributo di area hidden o meno la cattiva notizia è e per fare sta roba avete bisogno di javascript la buona notizia è che qualcuno sempre sull'internet ha creato un CSS così piccolo 600 byte 600 byte proprio di codice non minifizzato per poterlo usare trovate il link poi nelle slide che pubblicherò secondo trucco empty chi lo conosce? già iniziamo ad abbassare le mani ragazzi su dai empty è un selettore che non fa altro che prendere un div che non ha nessun contenuto quindi dove non c'è proprio niente dentro se non al massimo un commento già se c'è uno spazio o se c'è un invio quelli vi ricordo che sono caratteri HTML come tutti gli altri quindi non viene triggerato l'empty anche qui bello un selettore sono quei selettori che tu vedi nella documentazione immagino che nei libri che cavolo ci faccio nella vita reale prima cosa user generated content avete questi bellissimi lì vuoti che non volete mostrare guarda con tutto questo ben di dio qua lo nascondete senza colpo ferire potete segnalarci errori questo lo faccio attivamente oggi ovvero abbiamo tutti quanti più o meno lavorato single page application roba che viene iniettata in un div corretto quindi quello che potete fare con un div vuoto è proprio e con i selettori gli pseudo selector before e after scatenarvi con la fantasia e dire ok l'app non è disponibile perché non è ancora stato sostituito il container dal javascript con un con l'injet del javascript lo potete utilizzare per fare il loader questo ce l'ho in produzione oggi con un div che conterrà la mia app quando javascript è partito e tutto quanto con del css sempre sull'after ci potete fare qualcosa del genere niente javascript nel nulla fino a che l'app va in loading vedete questa cosa qua a gratis anche perché se javascript non è partito non potete utilizzare javascript per fare il loader perché non fare entrambe le cose insieme avete il loader l'app è andata dopo 5 secondi che la vostra app non è caricata l'app non è disponibile per farvi vedere in combo anche con il not nel momento in cui voi cliccate load content sparisce qua l'unica riga di javascript è inner html di bella raga questa è tutta la magia che abbiamo utilizzato qua so che può sembrere poco questo è tutto il codice che fa quella cosa là bene andiamo avanti la prima metà è solo sui selettori quelli che nessuno ha mai visto se non per penitenza per leggersi un libro sul css questo quanti lo conoscono? eh questo bene target è una è copiato è tradotto dalla documentazione è una css pseudoclass che va a prendersi va a triggerare l'elemento che è il target nell'url che cavolo stai dicendo avete presente le ancore 1999 2001 tu cliccavi su un link e ti andava su un oggetto a quello servivano i div con i div gli id ai tempi quindi cosa facciamo? non facciamo altro che se nell'url c'è cancelletto pippo il container che avrà davvero quel pippo viene preso dalla nostra regola quindi un pippo link in questo caso che non fa altro che puntare a pippo si illumina di immenso nel giro senza anche qui scrivere una riga e voi dite bello ma c'è il jump to che è il comportamento come facciamo a toglierlo? un esempio anche questo ce l'ho davvero in produzione è mettere l'ancora sopra l'elemento prima dell'elemento che volete utilizzare e metterlo in fixed così sarà sempre in pagina in prima posizione e non avrete il fastidioso jump to potete poi attaccarci anche javascript per fare differenti cose esempi reali beh c'è chi si è fatto un intero carosello tutto fatto senza una riga di javascript ok c'è questa è la mia preferita la modal questa è una modal fatta con un target la cosa figa di usare il target è che se voi condividete il link con il cancelletto il nome del del div che volete verrà visto già direttamente con con il css applicato altri esempi vabbè c'è la classica accordion ci sono più modi che fare accordion che stelle nell'universo ma anche in questo caso ce l'abbiamo vabbè questo qua il prossimo trucco lo conoscete tutti tutti giusto? bella ci si può fare un bordello di cose ma veramente veramente tante fin troppe io qui la prima cosa che vi faccio soprattutto sempre in combo con i vari selettori chi conosce questo sito? è un sito complimenti hai vinto un adesivo è un sito bellissimo dove potete farvi delle quantity query ovvero decidere di selezionare tipo voglio che se ci sono almeno tre elementi sono colorate di viola questo è quello che sto facendo in questo caso si vede rosso quindi se scendo sotto i tre diventano blu se salgo di più diventano rossi questo è molto utile soprattutto quando tipo avete delle griglie e volete sapere quanti ce ne sono per cambiare la quantità potete veramente sapere quanti figli ha quel container senza scrivere una riga di javascript il selettore è un pochettino complicato qua ne vedete un esempio ne possono uscire veramente di assurdi però avete un tool che vi aiuta a farli a dire di utilizzarli un'altra cosa che potete fare solo con il CSS è selezionare di una lista da un elemento A a B banalmente l'utente ha selezionato il primo punto il secondo invece di andarvi a ciclare tutti gli elementi del DOM che è una cosa brutta e non si fa mai potete usare una regola CSS di questo tipo l'ultimo selezionato il primo selezionato e sono evidenziati ok andiamo veloci perché ragazzi sono 123 ne ho tolte due mentre mangiavo il riso per penitenza quindi andiamo velocissimi questo quanti lo conoscono complimenti è un selettore veramente semplice che vi dice solo se il placeholder è mostrato o meno il placeholder di un input quindi se c'è il placeholder selezionato se c'è il placeholder visibile funziona altrimenti no quindi io adesso il placeholder lo vedete tutti inizio a scrivere e ha cambiato colore semplice quindi è un selettore anche qui con cui potete divertirvi a fare cosa ad esempio un esempio reale sono le floating label potete prendere questa è una label ci clicco inserisco il mio nome e come potete vedere la label se faccio l'ho già fatto se faccio blur rimane lì perché perché ovviamente è un trucco per vedere che l'oggetto in realtà l'input contiene del testo ok ovviamente finora l'avevo trattato bene semplice facile veloce ma 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 e vabbè ce l'avamo abito non potevano essere tutte belle ma c'è un polyfill così piccolo che ci sta in questa slide con questo polyfill qui javascript potete supportare anche explorer ok questo lo conosciamo pure invalid sì dai ok questo però lo mettiamo in combo con tutto quello che abbiamo visto finora potete fare un'intera form senza scrivere l'abilitazione di una form senza scrivere una riga di javascript come faccio senza il mio angulargs che mi mette tutte quelle bellissime classi potete questo è un esempio ovvero io inizio a digitare a caso come potete vedere l'input è diventato rosso se invece scrivo http non so scrivere http ragazzi qualcuno mi aiuti io ho detto che non lo sapevo scrivere però non ci credevano ok www punto ok vedete è valido quindi cambia il colore potete addirittura farlo con selettori come è fatto vediamolo un attimo semplicemente utilizzando un tipo dell'input url un altro email e addirittura potete fare queste magie qui con le espressioni regolari fortunatamente esistono siti che le scrivono per voi perché altrimenti non ci sarei arrivato in vent'anni per dire ok voglio esattamente questo tipo di input qua e questo funziona tutto con CSS ma potete dire sì ma non posso evitare che l'utente clicchi sul tasto e mi faccia la request con i dati invalidi in realtà potete perché esiste event pointer a cui pointer event scusate a cui dite se il form è invalido perché anche sul form potete dire invalido il bottone all'interno è disabilitato se io qua inizio a compilarmi quindi ce la posso fare fate il tipo per me per esempio fortunatamente ok è difficilissimo ragazzi dovresti provarlo a casa anche perché sembro confidente di me ma mi tremano le mani e quindi 12 12 12 ok nel momento in cui il form è valido è apparsi il pulsante anche questo senza scrivere mezza riga di JS le cose negative di tutto questo io non le ho trovate ce l'ho in prod va funziona se qualcuno me le trova mi fa un piacere che mi si iscrive la gente sul mio sito questa cosa qua bene siamo solo a metà abbiamo più o meno mezz'ora no mezz'ora in totale abbiamo un po' di tempo pensavo acceleriamo lo stesso la slide l'avevo scritta ok current color chi lo conosce ok questo qua è una variabile che è sempre sì ho detto CSS ho detto variabile raga calmi è una variabile sempre valorizzata con il valore della proprietà color corrente la proprietà color è quella del testo ovvero in questo caso qui che grazie al sole milanese che nessuno aveva mai visto si vede poco il testo è fucsia e anche il bordo è del current color quindi se io cambiassi il colore cambierebbe anche quello del bordo nella vita reale perché quella è la cosa vera cosa ci potete fare dei bottoni ad esempio ovvero che il bordo del vostro bottone è lo stesso del colore in maniera che voi avete un solo selettore cioè scrivete questa cosa qua cambiate solo il colore del testo e vi cambia tutto per dire questo qua è la palette del sito dell'adobe loro tutti gli elementi di ui cambiano solo il color lo potete vedere qua e gli cambia tutta la ui cambiando un sembra quasi un linguaggio di programmazione allora il mio trucco preferito col current color è con l'SVG come potete vedere qui l'SVG il codice è lo stesso di prima cambia colore in base al testo che c'è a sinistra come funziona con tutte queste righe di CSS qua fate un fill current color dell'SVG e prenderà il colore del testo in cui l'avete messo a fianco il che vuol dire che non avete più bisogno se ancora le utilizzate dei font icon non li siamo più vero sempre parlando di SVG c'è anche la possibilità di controllare il path dell'SVG questo è un pochettino quanti di voi conoscono stroke dash array e dash offset ok se siete sempre voi calzate le amate tenetela già su così ok allora sono due proprietà che praticamente vi permettono di controllare sapete i punti cioè i trattini all'interno di una linea tratteggiata né più né meno il dash array è quando è grande lo spazio tra un trattino e l'altro e quanto è grande il trattino e il dash offset è da quando farlo partire per darvi un'idea ho qui due righe con un dash offset di 5 pixel uno è spostato di 5 pixel e viene questo pattern qua che figata posso fare le linee tratteggiate come su world 97 sì potete però anche è una proprietà animabile quindi potete fare queste cose qua che può sembrare una cosa inutile ma potete magari se CodePen mi aiuta farci delle cose un po' più creative anche questo senza scrivere una riga l'utilizzo che ne faccio io sempre indovinate un po' è sempre quella cavolo di Jackbox che usa esattamente questo trucco qua si anima tramite un fillpad senza scrivere niente potete farlo poi per i radio per qualsiasi elemento di questo tipo e la vostra interfaccia non sembrerà più un copypaste da sketch ma avrà una sua dignità bene ok in realtà non era sbagliata potete stilare le immagini rotte ok come dice Confucio potete fare le UI più fighe dell'universo ma quando si spacca un'immagine vi voglio vedere a Fai Ganzi è amico di Osho come sapete c'è una loro amicizia stretta negli anni cosa potete fare allora tenetevi forte le immagini sono dei custom element sono appunto ce la posso fare aiutatemi sono delle direttive HTML ovvero quello che avete già quello che adesso si parla molto di fare i componenti ok le immagini lo sono già sono cosa fanno prendono qualcosa che non è nell'HTML un'immagine un blob di un'immagine e ve la piantano all'interno del tag ok quindi cosa vuol dire che fino a prima che l'immagine vada al posto del del tag voi potete stilarlo è un tag HTML qualsiasi né più né meno quindi con before after bordini eccetera con delle bellissime emoji potete stilarvi le immagini sfasciate in maniera tale che il vostro layout non faccia proprio schifo ok due cose uno è questo come vedete io qua all'immagine non disponibile ho aggiunto questo at alt ovvero cosa fa prende l'alt dell'immagine e ve lo scrive qua potete con attr potete accedere a qualsiasi property di un elemento HTML qualsiasi attributo la specifica dice che potete farci qualsiasi cosa quindi addirittura potreste scrivere withcent e usarlo nel CSS peccato che i browser per questioni loro te lo fanno usare solo all'interno del content però almeno questo è un caso d'utilizzo reale le brutte notizie arrivano adesso ovvero sto trucco non funziona su Ye e Safari però ce ne facciamo una ragione se Safari ancora ancora se usi Internet Explorer alle cose brutte e rotte ci sei abituato quindi per me non è un problema ok quest'altro trucco qua invece un pochettino questo è proprio un truccazzo ovvero vi capita spesso di fare siti di questo genere ovvero testo così e poi a un certo punto avete la iro o quello che volete che esce fuori peccato che ve lo dicono ovviamente le specifiche sono cambiate 27 volte da quando avete iniziato e voi avevate già fatto che tutto l'elemento era grande così e quindi dovete far uscire i gattini dalla dalla gabbia quindi questo è il caso reale come si può fare questo è proprio qua abbiamo il nostro container che ha una max width e il div che vogliamo fare uscire come possiamo fare a ottenere questa cosa fantastica studiare 30 anni per fare un box più grande è stato il sogno della mia vita però con quattro righe di css ovvero chi di voi conosce sa cos'è questo ok banale lo fate diventare grande come tutto la schermata gli date position relative per poter usare il left lo spostate del 50% e poi lo riportate indietro del 50% ovviamente cose per le sapete già left si basa sul container transform si basa sull'elemento stesso è per questo che il trucco funziona ok su internet potete trovare altre versioni perché ovviamente la prima cosa che ho fatto quando mi è successo sono andato su stack overflow trovate questa versione per lo più non mi piace perché praticamente i margini fanno scorrere sotto il body dovete mettere body html overflow hidden che è una cosa che a me non piace e mi sono venuto fuori con quell'altra cosa qua bene facciamo le cose interessanti lavorare con la legacy cambiate lavoro e vi trovate questa roba qua ovvero che 27 persone ci hanno lavorato prima ci hanno messo bootstrap foundation quello che volete e non capite più nulla di quello a chi è mai successo? eh io purtroppo a quel punto lì io perdo qualsiasi bontà e inizio a combattere il male con il male e per dire una delle prime cose che faccio quando faccio refactoring di queste robe qua è iniziare a scrivere queste cose esoteriche ovvero la quadra non è un carattere CSS valido il cancelletto non è un selettore CSS valido però questa cosa qua mi fa subito capire che all'interno di un file bootstrap CSS ad esempio ci sono queste classi all'interno di utility ci sono queste e poi le mie classi bellissime che sono sicuramente migliori di quelle che sono venute a lavorare prima di me e questo è un assunto 100% verificabile per tutti voi anche se quello prima ero io le vostre classi invece le selezionate così un'altra cosa bella che potete fare è tipo dire ok vedete qui c'è lo slash per farlo tornare un selettore valido e fare il parsing potete in questa maniera beccare tutti gli elementi che sono dipendenti da quel file è un trucco che ho utilizzato più volte anche semplicemente per andare dal PM a dire devo cambiare tutta quella roba là a mano funziona ok altro trucco bellissimo avete paura del globascope chi non ha paura del globascope quando siete su progetti che non controllate voi volete sapere come ho risolto usando le emoji questo selettore qui è un selettore CSS valido se la persona prima di voi ha scritto così potete comunque almeno andargli a offrire una birra o davvero del codice in produzione così perché non sapevo più che nome scegliere perché era pure minifizzato questa roba qua funziona è vero codice funziona su qualsiasi browser tra l'altro provatelo altro trucco che sappiamo tutti quanti l'importante brutto eccetera ma sto lavorando sul codice di altri non mi piace cosa potete fare potete moltiplicare le classi per aumentare la specificità questo è un trucchetto banale ma come vedete questo dovrebbe essere rosso invece è fucsia perché example double è scritto dopo la cascata però essendo questo un selettore di classe doppia è più potente quindi potete quando non avete controllo è un trucchetto che potete usare per andare meglio bene bonus track signori allora potete questo qua è veramente un trucco che io vi consiglio di usare solo se volete rimorchiare nei peggiori bar di caracas se ve l'ho messo qua perché quando l'ho visto ho fatto potete usare potete prima di tutto decidere che il tag head questi sono tag head siano dei blocchi e potete iniziare a stilare il vostro tag head dell'html non fatelo mai cioè fatelo giusto appunto per e potete usare before e after anche su elementi auto chiudenti come hr non ho idea di cosa questa cosa posso servire però era una figata te la volevo mettere in una slide una volta nella mia vita per dirlo lo sapevo l'altra cosa che invece potete utilizzare se gestite dei siti in cui il contenuto non è il vostro è utilizzare questo tipo di selettore qua lo conosciamo per colorare in maniera differente i siti che non sono interni al vostro magari mettendoci l'iconcina a fianco con un after dicendo stai uscendo da questo sito eccetera eccetera un'altra cosa che secondo me vale la pena conoscere sono le proprietà CSS counters che chi le conosce quasi buono cosa ci potete fare potete cambiare all'ultimo tutte le slide di questo talk qui e comunque averle ordinate in ordine crescente senza cambiare una volta il vostro html io sono Davide Di Pumpo e questo era il mio talk grazie domande ce ne abbiamo tempo ragazzi avete appena visto 123 slide dopo pranzo impressive lui ha dormito nessuna domanda però ho bisogno ci sente volevo chiederti i tipi di input quando mi fai si? i tipi di? di input quando mi fai input type url email date eccetera come è il supporto sui vari browser? sai che non ne ho la più palida idea ma possiamo fare questa cosa qua io una mezza idea ce l'ho e la vediamo insieme non lo so tipo il type date mi ha dato problemi più e più volte explorer 11 non c'è no color input type però aspetta no non lo so allora infatti con il detto anch'io ho avuto problemi volta per volta controllo infatti ho usato un'espressione regolare quella sui 11 funziona quindi nel senso se non è supportato dal browser io arrivo fino ai i 11 per mia fortuna vado di espressione regolare regex101.com e vado lì a tentativi fino a quando non ce l'ho fa quello che dico io bella ciao arrivederci altre domande? siete timidi? ho già detto tutto? ah sì proviamoci difficilissimo quella col gattino dicevi? o questa? bene grazie a tutti alla prossima grazie grazie